Buonasera a tutti, eccoci di nuovo su Assassin's Creed Brotherhood degli ultimi giorni prima della chiusura dei server naturalmente non sono contento di questa decisione di Ubisoft, assolutamente non contento, nulla concepisco e nulla condivido cerchiamo di giocare questi ultimi giorni che ci riprendono dalla chiusura dei server e poi Dio vede provvede Benvenuto nell'Animus Benvenuto nell'Animus, grazie tesoro Allora partito del giocatore Ricerca sessione programma Ricerca di altri agenti absterbo Ricerca sessione programma Ricerca di altri agenti absterbo Ricerca sessione programma Ricerca di altri agenti absterbo Ricerca sessione programma Ricerca sessione programma Ricerca di altri agenti absterbo No, no, no No, 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 no No, 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 no Siamo in Monterigioni Eh ma in Monterigioni io gioco con Oh lai va Ma si Ok ha fan Il tuo obiettivo è uscidere i dettagli assegnati Evita gli altri templari Non posso più gioco Vedi già subito Ma che cazzo Per me è questa No 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 Sono un colino Ah ma si Ma che cazzo non ti abbasta No 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 Non mi piace giocare sui tetti. Monteriggioni. Oppure! Eh, ma dai! Penso! Sì, abbiamo già rotto il collo. Eeeh! Certamente! Credevi? Eeeh! Eeeh! Buon appetito! 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 Questi mavi sono troppo a farmi scegliere, io ho qualcosa che sia giusto. Ci aspettano per tirare la bomba fumogena, ma su dai, va bene, ci tratteremo. Contratto verso. Niente, la bomba fumogena non fa un cazzo, ma questa addirittura me l'ha sparata dietro. Ah, queste bombe come rincino. Io ce l'ho capito, ma come si fa a giocare così? Vada. Oh, signore. Ok, vabbè, abbandoniamo questa sessione allora un po' perché si può giocare così. Ehi, già è... Succede? No, esca. Succede? Succede? Ah! Aaaaaaah! eh si vabbè ti hanno stornito eh si vabbè cioè ti aspettano per tirarti la bomba cioè ma ragazzi madonna mia eh ma bene ma guardate che qualità da che si fa a giocare così mamma mia che cesso contratto perso perso beh sì ma non mi spoggio qua così via veramente Niente ragazzi! Spagio che faccio! BOOM! A terra! Ah per me guarda! Puoi restare anche di lì! Sì! 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 No! Contratto perso! Signore! Ma sai! Tutto con le pistole! Vai! Tutto che gioco a questi babbi! Sì! Sì! Vabbè dai! Vabbè! Grazie! No ma io mi rifiuto di giocare così! La partita terminerà fra un minuto! Eh vabbè! Ma figuriamoci sì! Vabbè dai! Per carità ragazzi! È veramente osceno! 30 secondi al termine! Sì! Ciao! Oh 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 oh! Morti in aria! Bye bye! Eh vabbè dai dai! Secondo via! Sei arrivato secondo! Beh! 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 Ho fatto quello! Ho fatto la metà delle incisioni di quello! Vabbè di chi sono? Eh beh! Che è un incognito! Vabbè non è che ho fatto tantissimo! Questi stanno sempre a sparare! Cioè ragazzi! È incredibile! Ah ho fatto anche una grande varietà! Oh buono! Ma fatemi giocare a Venezia vi prego! Oh Castel Gandolf! Vabbè dai! Giochiamo con la cortigia! Con la fiora! Fabio la chiamiazza! Fiora a casa! Pienzanotte! Nooo! Vi prego! Nooo! Nooo! Signore! Ok! Il mio obiettivo è uccidere i bersagli assegnati! Evita gli altri templari! Evita gli altri templari! Se la smettessero di sparare magari sarebbe meglio! Eh vabbè sì! Questa bottega è scelta dalla clientela più distinta! I nobili sanno dove trovare! Amici! Uso solo l'ana, seta e pelle di qualità! Nobili! Nobili! Sì! Awe! Contratto perso Eh beh Cucco Credo Via 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 Cucco Credo 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 sei al comando eh vabbè mesacro mesacro con il braccio perso sei al comando eh vabbè ah questi corrono allora ma io per le ne basta contratto perso eeeh ciao eeeh eh vabbè no non me l'ha venenato pazienza non me l'ha venenato eeeh ci sta ho usato il veleno in un altro profilo stupido contratto perso ancora ora eeeh 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 ooooh eeeh eeeh ooooh eeeh ooooh ciao ti ho visto, ti ho visto eeeh vabbè ce ne sono due vabbè ma ero anche prima l'ho tirato giù dall'altro guarda si però si eeeh certo ah signore mi fate giocare per favore can i play please ok eeeh ma 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 no 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 aspetta 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 questa non l'ho capita questa non l'ho capita proprio c'è incredibile c'è incredibile incredibile quello che ho visto ah c'è massacro massacro ma 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 c'è ma in che ragazzi quel che vedo sei arrivato secondo ma 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 ragazzi ma siamo guarda tu guarda tu eeeh pazienza mi dia di fare uno stop sigaretta arrivo subito ragazzi perché no perché no seleziona il programma di simulazione e i parametri non ma 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 Seleziona il programma di simulazione e i parametri. 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 Riusciremo a fare una partita seria? Ricerca sessione programma. Ricerca di altri agenti abstergo. Ricerca di altri agenti abstergo. Ricerca di altri agenti abstergo. Va bene signori, io penso di finire di qui. Per oggi col brother e poi farò dopo Black Flag. Va bene, grazie per aver seguito. Ricerca sessione programma. E... Alla prossima. Ricerca di... Però Ubisoft, non togliere questo gioco. Ti prego. Grazie, merci beaucoup